Il cuore gira mondo, io giro il mondo ma il mio pensiero è qui, io giro il mondo e la mia meta è qui, tu già lo sai e non ti lascio male, senza di te non so più vivere, questo pensiero fa correre il treno, fa battere il cuore per questo grande amore che mi porta da te, 1972, il cuore gira mondo, che è nel mio libro, oggi è il 24 settembre 2018, prendi, si, bene, apri, 1972 ha scritto questa poesia, quando ero fidanzato con il tuo padre, papà Giancarlo, ma nel 72 ci siamo sposati, a febbraio, 12 febbraio 1972, e quindi poi sono dovuta andare pure giù a Napoli per le lezioni, e vabbè era maggio, maggio ero incinta, mio primo figlio Gianluigi, e sono dovuta andare a Napoli, ero incinta, incinta di 10-12 giorni, ho fatto un viaggio col treno, ed ecco che il treno fa battere il cuore, fa correre il cuore, fa battere il cuore per questo grande amore che mi porta da te, questa è scritta proprio per tuo padre, cerchiamo un'altra va, e siamo qua, cari amici, ai giardini estensi di Varese, con un po' di vento, abbiamo detto, ispirazione nella notte di San Gennaro, il 19 settembre, è stato adesso il tono mastico, eh? ispirazione nella notte di San Gennaro, l'uomo studia per avere una conoscenza, Dio ci guida per la fratellanza, e quando queste, quando queste si incontrano, il paradiso in te, 19 settembre, di San Gennaro, nella notte di San Gennaro, l'ho scritta, vai, altra poesia? Questa l'ho scritta, forse nel 91, così, La passeggiata dei ragazzi della scuola e le loro voci che stanno passando adesso da qui facendo la passeggiata con le maestre. Anna Rinaldi, ma l'abbiamo già detto, comunque oggi è il 24 settembre 2018. Che bel giorno, giorno 24 poi sei nato, l'autunno alla primavera. Il passaggio di questa poesia è che parla dell'autunno e della primavera. Intitolata creatività, dolce la vita, se vuoi che tale sia, con grande fantasia la puoi pennellare. Un albero spoglio, l'autunno è già qua, tra il verde e marrone e foglie ingiallite, dormite, dormite. A primavera fiorite. L'albero spoglie, ma profuma l'innoio e non vuoi cercare la primavera. Siamo già passati alla primavera. 1989, Anna Rinaldi, 24 settembre 2018. Giorno splendido, una giornata splendida. Questa è una mia creazione, la sedia, la sedia a dondolo e sotto c'è il porta giornale. e faccia di rame lavorato con lo giugno di rame. Sì, mamma. Mamma. Ciao. Mamma. Ciao. Diceva verso di noi, mamma. Come? Leggi verso di noi. Sì. Ah. Che cosa vuoi di noi? Non legga questa? Coreografia della vita? Non lo so, leggiamolo un attimo. Coreografia della vita. Quanti argomenti oscillano nella nostra mente. Belli e brutti, negativi e positivi. E nella loro coreografia c'è la cornice che la vita insegna. Basta tralasciare cose non belle e non sarai mai bella. Questa l'ho scritta... nello stesso periodo delle altre, non c'è scritta la data. nello stesso periodo delle altre, non c'è scritta... e non ho fatto... comunque nel 1962, 1963. come questa... come questa... come questa... come questa... una foto... avevo... vent'anni... vent'anni... eh... vent'un'anni forse... quando ho aperto il negozio... avevo vent'un'anni. Prima si diventava maggiorenne a vent'un'anni. E io l'ho aperta a vent'un'anni, questo negozio. E adesso vi leggo la poesia che è a fianco. grandezza in noi. Chi siamo? Noi uomini. Ordunzo. Ditemi, chi siamo? Coloro che possono sbagliare? Chi siamo noi uomini? Sì, noi. Che abbiamo la facoltà di correggerci. Ditemi, chi siamo? Vedete dunque... voi uccelli. Sì, voi... che volate liberi nel cielo... quanta gioia grande... possiede l'uomo. E se l'uomo riuscisse... ad essere capace di correggersi... ancor prima... che avvenisse il fatto... ancor più grande... sarebbe la gioia. a cui mette del progetto, a cui mette lo spielo. Allora... per ancora più vicino e... La poesia del pescatore L'apostrofo L'amo, l'amo, l'amo è l'amore. Ogni petalo che vola è l'amore che implora. Sono bello e profumato, ho un viaggio assicurato. Sono grande pescatore, nel profondo del tuo cuore farò nascere l'amore. Nel mio libro Ecco il libro C'è la foto A oltre, ho intitolato Ad oltre il colle, Bergamo Con Gianluigi, mio primo figlio Mio primo genito Io ho Gianluigi seduto qui in montagna Gianluigi aveva solo sei mesi Prendeva ancora il latte materno Bene, bene Apprezzo fino a sedici mesi e mezzo Perché dopo Voleva nascere anche Gennaro E allora Fino a sedici mesi e mezzo Ho dato il latte a Gianluigi Dopo eri incinta Dopo eri incinta a Gennaro E lo dovevo svezzare Perché Non si poteva continuare A dare il latte Se no Mi poteva Avevo quasi Si può dire Che veniva la febbra Perché eri incinta E davi il latte A Gianluigi Dovetti svezzarlo per forza E Gennaro E Gianluigi poi Io gli cantavo Marcellino Pane Vino E gli metteva Gli mettevo vicino all'orzacchiotto E Gianluigi diceva L'orzacchiotto non vuole dormire Era lui che non voleva dormire Senza prendere il latte mentre iniziava a dormire E così piano piano poi ha mangiato La faccia Si abituò Così venne mia mamma Per Per Aiutarmi a farlo svezzare Per abituarlo Con la faccia Perché lui prendeva solo il latte materno E così Poi è nato anche Gennaro Prima che Gianluigi facesse due anni PUREZZA PUREZZA La purezza è dove sono le cose Essa è nell'aria Nell'aria senza smog Nella notte limpida e chiara Nella sera stellata e senza nebbia Nel tramonto rossastro Nel giorno pieno di sole Questa l'ho scritta Nel 1972 Nel 1972 E la foto E la foto E eravate piccolini La foto Ai giardini di Milano Ai giardini di Milano Di Viale Viale Faenza E lì volevano togliere i giardini Ecco perché io ho scritto questa poesia E poi ho messo la foto E poi ho messo la foto Che ho fatto anni dopo Che voi giocavate ai giardini pubblici Sì, bene Tu e Gianluigi Gennaro e Gianluigi Sono piccolini Bene Qua i giardini Anna Rinaldi 24 Settembre 2018 E le sue poesie Il quadro è di Anna Rinaldi Esatto Che ho dipinto io Ecco Bene Ciao Bene Ciao Anna Rinaldi Anna Rinaldi 24 Settembre 2018 Ciao Dai giardini estensi Verso Varese Bene Saluta mamma Bene Ciao ragazzi Ciao 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 E cari amici Un saluto Ciao Un saluto cari amici Il 24 Settembre 2018 Gennaro Gelmini Anna Rinaldi del Giardini estensi Varese Siamo fatti una bella vaceggiata Sì Sì Ma vieni Vieni Ma vieni 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 Come era la casa rossa che tu hai visto il video, mi sono piaciuti i tipi della cazavola, mi è piaciuto, quello sono video che fate voi, è un palco tranquillo no? Sì sì, più tranquillo di quello, vabbè, ciao, ciao, qui, dai giardini, la giornata è calda, ma davvero, la bolsa scotta, quindi c'è tanto di quel vento, mi sciolgo i capelli, c'è troppo vento, oh, adesso sì, tanto vento nei capelli, adesso il vento si viene i capelli, ci non prestano poco, ciao, buona giornata anche voi, ciao, ciao, ciao a tutti, che bello lì, guarda, bellissimo, il cielo, il cielo, hai visto tutte le strisce, gli amici diranno, che bello è il cielo, così, va bene, mamma, grande vento, grande gioia, bello, si vede proprio qua giù come se se fosse qui è proprio giù giù che è venuta la luna sembrava quasi una finestra accesa la luna sembrava una finestra accesa e invece si sta muovendo è proprio la luna è proprio qui la puoi toccare con mano puoi toccarla con mano guarda bellissima bella un roso acceso ecco mamma la super luna che ne dici la super luna dietro di te proprio la faccia beh per quanto si può vedere si vede molto bene ingrandiamo la luna di stasera del 3 dicembre 2017 eh mamma becchi sempre la luna enorme la luna piena si allora che dire di questa luna piena siamo fortunati beh anche il freddo per essere dicembre ci teniamo si 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 molto bene e allora questa è la luna quindi e dai mamma si vede tutto il viso eh gli occhi beh cioè la faccia della luna si proprio anche la bocca il naso non so come mai non viene lì dentro eh la macchinetta da recino è presa mamma non è che possiamo fare che eh saluta dai i tuoi fans fortunati che non è venuta sempre per l'autobus che non è venuta ancora eh vabbè la domenica ce n'è uno adesso va giù boh la domenica ce n'è uno ogni 45 minuti ma mi sa che hai sbagliato l'autobus si 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 non è quello è quello azzurro allora mamma che dire della luna molto bella è proprio qui vicino e si vede tutto io da qui si vede proprio anche il naso gli occhi la bocca il volto della luna proprio tutto il volto della luna bella e adesso 3 dicembre 2017 una domenica bene ti prendo prendo anche te con la luna ecco ne faccio qua e vieni più vicino vieni più vicino gennaro non devo toccare niente ah ho capito bello bella proprio bella mai vista proprio qua giù è qua giù sembra che la puoi toccare con mano basta sull'orizzonte la luna del 3 dicembre 2017 una domenica si gennaro e anna rinaldi anna rinaldi e gennaro gelmini si dalla luna della super luna dai bene mamma allora siamo qui eh si si da aspettare l'autobus il 3 dicembre 2017 che è proprio divertente eh aspettare l'autobus così sotto la luna ecco sotto la luna le stelle ecco anche una bella stella eh ma le stelle non si riesce mica a vedere non si riescono bene bene saluta saluta i fan ciao ciao e di iscrivetevi al canale di gennaro e al canale di anna anna rinaldi e gennaro gelmini si ma tu devi raccimolare un po' eh sei tu che devi raccimolare devo scrivere devo scrivere scrivo in questo periodo proprio poco però una poesia l'ho messa eh giorni fa sul blog all'orinaldi si si è carina quella poesia come come l'abbiamo chiamata perché l'abbiamo appena messa però l'ho scritta cos'era il 16 novembre o l'8 non mi ricordo proprio eh noi mettiamo di sera tardi c'è sempre poco tempo adesso dobbiamo andare fuori a messa poi pubblichiamo fai te va bene va bene dai ciao 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 andate a vedere le polpette che sono proprio buone andate a vedere le polpette sui blog poi metterò il polpettone poi metterai il polpettone e arrivederci al 3 dicembre 2017 ciao 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 da Anna Rinaldi ciao